A mala scoperta questa mattina per i soci del circolo per anziani di Sant'Orso, anni nuovi. Poco dopo alle 10, come di consueto, uno dei soci, Dino Berluti, ha aperto normalmente il circolo. Sul momento non ha notato nulla di strano, almeno esternamente, ma una volta all'interno era evidente che mancasse qualcosa. Il nuovissimo televisore da 65 pollici, acquistato da pochi giorni, che faceva bella mostra nella sala principale del circolo e che i 150 soci avevano acquistato di comune accorto per codersi ancora di più le loro attività interne. Certo, non era costato poco, oltre 1000 euro, ma aveva migliorato molto le attività del circolo. Era evidente a quel punto che qualcuno fosse entrato e lo avesse portato via. La triste realtà quindi è venuta subito al galla. Le due porte interne in legno con le serature divelte, aperte chiaramente a spallata, nel vano cucina ed in quello della segreteria, hanno fatto capire molto chiaramente che i ladri erano passati di lì durante la notte appena passata. Ma i malviventi, oltre al prezioso televisore, si sono presi anche il fondocassa del bar di 50 euro ed, ahimè, anche i 1000 euro in contanti che i soci avevano appena versato per il rinnovo della tessera annuale. Totale del bottino oltre 2000 euro. Sul posto è subito intervenuta una volante del commissariato di Fano che ha raccolto le testimonianze dei soci e constatato l'assenza di segni di effrazione in nessuna delle porte o finestre della struttura, cosa sicuramente degna di nota perché resta da capire come e da dove si siano introdotti all'interno del circolo i ladri. Gli inquirenti in queste ore stanno visionando anche le immagini disponibili delle telecamere di zona per cogliere qualche strano movimento di mezzi o persone, dato che un televisore da 65 pollici non è proprio un foglio di carta A4 da portare via e serve un mezzo adeguato per farlo ed individuare anche così i colpevoli o i responsabili. Ora ai soci del circolo resta il malinconico vuoto lasciato dal loro bel televisore nuovo e l'amarezza per aver subito questa brutta disavventura.